questa la vinceremo raga speriamo speriamo si speriamo io non lo faccio non lo faccio Gabriele a te ti si sente un po' male eh lo so oh c'è uno che c'aveva una cosa laggata era laggatissimo raga andiamo a Borgallegro vai che mi porta sempre fortuna si borghetto ok sfida è picco no raga andiamo a picco non ci arriviamo a Borg è un po' lontano dalla pista figli oggi dobbiamo fare se io muoio subito vabbè 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 raga preferito un po' da noi eh aspettate raga che vi si sente un po' la voce male metto un secondo il microfono meglio raga devo andare giù nel lago so' troppo basso e poi l'ho elegante ma almeno questa è qua noi sì dai mi sa l'ho tempo qui oh l'ho un po' qua tattico iancco perché è iniziata la live e vi si sente male no perché anche ieri c'era copia io non ho script board non so non lo so non lo so non lo so Sava ma te la stai a vedere la live no perché ancora non è uscita perché l'hai segnata ora ah è vero mappa ho trovato la mappa del tesoro del tesoro grande no no non lo prendiamo io lo prendo raga è ritardo non è perché è ritardo sì appunto poi se la vuole con l'altro se la vuole lui se la vuole con l'altro ma te dove vai figli? eh sto andando a prendere la mappa del tesoro voglio vedere anch'io? no Gabriele la prendo io l'ho trovata io la prendo io eh se vuoi successarmi dobbio me lo dai a me e come fa a portarle spiega no Gabriele la prendo io no Gabriele la prendo una cosa ti trova da me lo faccio prendere il tesoro eh infatti io l'ho già l'ho trovata so qua il tesoro ah qua ehm da Brinco c'è una porta a 50 sì ma io ce l'ho già l'ho già fatto tutto tutto pieno pompa nuovo di tutto scar pompa nuovo scar pompa nuovo ho trovato due scar ne porto uno a me a me e dai eh l'ho detto ora ora io sì sì vabbè io sono una frana con lo scar no sentite la mia canzone faccio schifo con lo scar questo è stato e posso portare anche un altro pompa nuovo leggendario leggendario vabbè io Gabriele se te lo prendi epico io me lo prendo leggendario ok grazie mi fai anche un favore sento è la stessa cosa epico o leggendario che cambia cambia di un danno io vado a vedere no Saba ma ti ricordi prima che c'è chi Natalia ho fatto a quello ma non ci sono le uova capite le uova con la sua l'ultima ma sai pum lo si ma no dicevi che vado a luttare di sotto e raga voi avete identificato quando l'ho trovato io ho trovato raga ho trovato un'altra mappa del tesoro è mia no era mia si si quindi però vengo sotto e ti do e prendo lo carro e prendo ah no era un'altra cosa eh no era la mamma no 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 scendi la stanza no devo portare lo scar e il pompa nuovo e anche il pompa nuovo lo devo portare a Fuenci no raga Saba non ti posso portare il pompa nuovo ho trovato il cecchino mi dispiace ma qui ah vieni è là sopra l'hai visto? ti do anche lo scar e la faccia prenderlo Saba mi devi andare a prendere quel fucile sta parlando di suoi l'hai preso lo scar scusa sì il pompa il pompa è sopra però dobbiamo andare anche in safe Saba ora c'è la live un attimo no non la guardo bomber mi dai il cosetto il tuo cugino la sta a guardare la live vero? il pompa bomber dov'è il pompa? è dentro la casa ti dai no è mio il pompa raga comunque queste mappe del tesoro c'è troppa roba ho capito che c'è una partita no non è vero mamma c'è una live sì perché quella di ieri si è cancellata no mamma mi metti la live? jump pad no figlio aspettatemi aspettatemi Gabriele io sto qua cioè siamo andati siamo andati in safe se no prendevamo danni noi eravamo più fuori di voi figlio infatti noi eravamo qua ah no erano più fuori loro figlio aspettami io c'ho c'ho un bello c'ho una bella di collotta io c'ho il cecchino silenziato no Gabri prima ho fatto una cecchinata da 285 metri col bar metri col barret gli ho tolto 375 c'ho il jump c'ho il jump eh anch'io ce l'ho grazie che pompa c'hai? no no ah ok pompa nuovo leggendario e lo scaracca leggendario e la mitraglietta silenziata e il cecchino caldori caldori non lo sa che siamo in live stavolta no è vero no caldano manda mamma mamma manda un messaggio a caldori direlli che siamo in live vabbè vabbè ok ora non andiamo da raga andiamo in safe ma non è vero non si può fare la double pump non c'abbiamo si la uso io gabrie la uso io ok no rega iuto bo ma chi non lo spreca ora andiamo a fare tag gabrie io c'ho quello col mirino se l'hai visto qualcuno no sto guarda citti se lo scecchino ma dov'è una pubblicità no ho sparato a caso madonna felice ma se ascolterò se ascolterò ho la testa che mi dira come mi ma ho detto addio me ho dopo che c'è tu fai felice spontaneo perché questo mi scopro questo mi cula ma che cazzo guardalo no ho sparato a caso cerco di prendere una a caso la vedo un po' dura però tipo ninja non hanno luttato in testa doppio pistole sono fortissimo con le doppie pistole saba ne sa qualcosa saba è vero io con le doppie pistole sono fortissimo dai raga però io voglio trovare qualcuno che paio raga venite a farmare la pietra arrivo cosa io 0 no io 71 no ce l'ho 71 ce l'ho 71 mi sono sbagliato avevo fatto col ferro sì io di di lenda c'è un 500 e di mattone 500 di ferro un 93 te c'hai niente di maz gabri 500 sì sì prego c'è l'acqua dai raga io però voglio trovare qualcuno sul serio siamo in piena safe ci dovrebbe essere almeno qualcuno ma sì io si nasconde il camminato stai zitta non hai il drop raga si sparano sì si sparano sì corri corri li vedo li vedo stanno là stanno là raga stanno là guarda guarda io c'ho il fucile da caccia così lì mi do due belle manasse no io c'ho il cieco ma sopra oh ci sparano le palle di cannone di cannone dove dove è vero dalla vedi ci stanno bruci oddio oh si è sparato lui 41 come mi sta pusha dietro di te vero mami ah è il duro li vedo preso 99 a 1 col cieco davvero sì 99 ora il bolt action silenziale è la 99 86 preso andiamo andiamo raga pushiamo pushiamo e vabbè qualcuno mi rissi eh Gabriele eh rissa no dai ammazzalo ti prego come che ha dato di te dietro di te dietro di te va bene ci sono due ma mi incontri no siamo arrivati quarti vabbè no quarti quarti siamo arrivati che vale che vale la mamma di fuenci che mi ha richiesto amicizia itzy dex hox per sicurezza io dopo la rifiuto ma no perché non so il suo amico perché si era qualche tuo amico gabry non è vero ma guarda allora ma come mi asso aiuto ma donna mi pisce ti spacco le pijon sa come si dice piscello in francese le pijon come mi canzi come mi canzi pompa novo morto morto borgo allegro raga borgo ora va bene no borgo 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 borghino l'ultima win che ho fatto è stata borgo allegro si perché porta sfortuna borgo allegro chi sta a guardare la live io ok io io me la guardo dopo si si lo sento lo sento però levala levala perché sennò da noi la live normale beh dobbiamo parlare comunque in live si parla ok parliamo what the hell c'è gente no io io prendo il centro questa casa è mia questa casa è mia prima di tutto ok questa è mia grazie c'è una scelta ma no vabbè io mi ho morto io si io si eh io ho preso uno e l'ho levato 99 me me eh vabbè poi si è stato sfigato chi vale una mitraglietta silenziata io valla prendo eh qua tipo qualcosa è la nella mia casa accanto alla mia casa è accanto è accanto pompato al nonno blu guarda 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 sono gentile a me serve io sono un pompa io c'ho il pompa gabrie se vuoi ti passo da un pompa eccomi caccia anche a me mi serve un pompa certo il caccia l'hai trovato la r è mia oh sono andato al caccia oh il caccia fili eh il caccia è mio non lo puoi dare quando lo trovi in un altro si questa casa è mia gabriele non me la fregare dai saba si però mi serve un pompa voglio trovare un pompa eh un pompa non so c'ho un pompa del nonno blu qua da me io 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 no no non è di poscia ciao ciao il pompa nuovo non vuoi pompa fili se trovi un altro no non piace più il nome voglio una vita così voglio una vita così rockstar si è bruttissima lo so non dovrei manco nominarla sulla faccia della terra scuse se dico che è brutta però è brutta sul serio cantante ula 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 lop ula 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 lop lop oh ragazzi c'è uno script board e un quad ma io me ne vado ciao ciao filipo ma dobbiamo andare in safe fili vieni ma che vieni io me ne vado con l'hyver board hyver board vabbè come li si chiama scusate ragazze si è sbagliato il nome aspetta scusa vieni mammi corri no vado io allora te dammi il caccia allora te non guidi ma non sei buono io so bene che si il filo è molto avanti e vedrai questo coso va velocissimo si guardate io tutto che sto a piedi no raga dite l'attimo il capito che scende l'attimo perché io non lo so io sono safe pochia non si dice culonia no pochia dove è finito sotto la mappa no lo volevo io pochia mi sparo no mi sparo no aiuto da dove da dove da dove da dove arrivo a pusharvi ok dov'è dov'è aiuto raga è dietro di voi è dietro è dietro lo vedo no no non è dietro è lì da dove da dove mi pushano sei due eh vabbè raga mi ammazzano mi hanno ammazzato raga mi hanno visto fatemi vedere pochino stanno baciando stanno baciando stanno baciando stanno baciando stanno baciando e vabbè mi ragi di con la pillola sta così che poi si la saba li lagga un botto quanto ti lagga? c'è l'è dietro? si è preso il mio pompa nuovo sto bastardo famiglia della mi live va vada ma sti caprile non è che puoi giocare con non giocare con il snowboard proprio perché se no non si perde e si invita bene no non le ho ne manco c'è online vabbè ma quando viene no no oggi non c'è vabbè 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 fatemi dai raga bisogna vincere se qualcuno non fa lo scopo perché ti può capire allora fatemi i commenti fatemi regolare aspetta commenti ok ma stai zitto no con la scuola è già di leoni no di leoni piafra mettilo in carica se manco per sbaglio scalini scalini si scalini io ci faccio un botto di kill si scalini io ci ho fatto 5 kill ah eccole quelle 5 kill che mi avevi detto si ho fatto 5 kill tre con doppia pistola e due con k raga mi sa che fra poco vengono anche le nostre femmine della classe a vedere la live dove io vado qui al centro a vedere la notte palla a vedere la vede poi però vale giocare anche maria che palle gabri questa è la mia casa vai via no no si lì la ho restata ormai io eh mi dispiace oh devi giocare no no gabri che vale ma fa 10 ci deve essere sempre le mitragliette silenziate cioè nelle 7 ci sono le mitragliette silenziate e che p90 oh c'è mitragliette piccole silenziate lì c'era un'arma che si chiamava ivi che hanno rimosso era un'arma bellissima ma il shotgun il shotgun eh bello bello grazie sinonimo turco comunque vi dico supporta creatore ruzzolini magari amiazio decidete se scusa sotto i commenti scrivete mamiazio o ruzzolini chi vota più per mamiazio vince 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 cinque mila gubac cinquecento il tuo cugino ha scritto iscrivetevi se votate tutte e due vi regaliamo mille v-bac ci ha creduto ma tanto non ci credo no ma questo guarda più più calze lunghe si guarda più più calze lunghe si me l'ha fatta me l'ha fatta me l'ha fatta di pure quando sono venuta a casa sua me l'ha detto di segreto Filippo giuro che una volta di questo quando ci vediamo te le do Saba t'ha vangato no pensavo d'avermi bevuto io la droga no te o c'è anche il cuoco o c'è anche il cuoco o c'è anche il cuoco e chi fa niente questo solo Barrett non lo voglio il Barrett di morta ma no è una macchinetta eh quanto è il Barrett 300 io ho un'arma leggendaria un'arma epica e due armi bianche sto messo malissimo raga ma mi eslo vieni ma mi eslo il puzzè al culo eh il vulcano ovviamente l'hanno luttato no non hanno luttato al vulcano raga scusate ho trovato il tattico blu della vita gabriel l'altra cesta è mia mona siamo in live non puoi giocare sì siamo in live ma non puoi giocare quella di ieri si è cancellata mona quella di ieri si è cancellata ma non è che puoi giocare mona il posto di gara eh no gabriel ma non puoi giocare mi dispiace la scorsa live si è cancellata mi dispiace saba saba c'è non le hai manco risposto voglio anche io la scorsa saba 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 non lo capisci che gabriel deve giocare perché per forza sì raga c'è gente qua vicino hanno usato un falò la vedo raga c'è gente capri 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 raga passiamo per qua dentro magari c'è rimasto qualcuno dove numero zitto perché perché sì ma dove stanno scusa ma dove stanno dove li vedi sono 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 sbagliato no no non sono lì sì lì e poi zitto ci starai no ma dove so eh ecco qui fuori aspetta aspetta no 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 eh raga ho mutato mona raga ho mutato mona Vieni, vieni Mami, mami Una terra Mami Uno morto No Mi hanno atterrato No, dai Raga, c'è uno con pochissima vita Questo qua Saba, questo qua Eh, vabbè, finì Finì, questo Non lo lascerò No, eh, proprio qui Uno c'ha pubblico Dai, dai Non ci vede nessuno Eh, qualcuno sì, però Va bene, sono morto, ciao Ciao, ciao Pascia Tieni il fucile Ha preso sette di danno Pascia, c'è la Pongalo Gabriele Sta affaitando Come fa Usa la mappa Eh, lì Pascia, vai Ma no, no, no Prescullalo Prescullali No E ci sono anche i balloni Sto stati chiesto Eh, non sa che fare Paio Io, raga, ho zittato a Mona Dai, raga Vi incoraggio, vi incoraggio Vi voglio incoraggiare La prima? Io Sì A me manca poco Anche a me poco Manca settemila di xp Bella raga Ora mi strozzo Ok Dilli lo smuto Sì, ci deve essere scritto dal vivo Madonna, la doppia pistola Sì C'è un'immagine di forza Sì, allora sì Eccolo Profondo, profondo Sì, c'è un'immagine di forza Profondo istante Mona, la stai a vedere? Ma è live? Sì Sì La stai a vedere Scrivi un commento Ma anche il libro era live Eh, ma quella là si è cancellata Fili, ti metto in like? Sì Mona, quella là si è cancellata di live Quella di ieri E come ha fatto per cancellarsi? Io la vedevo Eh, la mia mamma praticamente stava modificando la cosa E si è cancellata No, non ti Quella cesta al centro è mia No, perché ieri l'hai vista Perché me la pilla quell'altro? Io me la ammazzo Eh, vabbè Gabriele, faccia picconata Li ho allevato 75 Sì, vabbè Gabriele, vieni da me È là, è là Gabriele, vado a pushar Gabriele, curami Aspetta 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 Il Succino da caccia Sopra è mio Aspetta L'ho atterrato L'ho ucciso C'avete delle bende Cure No, vero? No Eh, vabbè L'ho preso al volo Con la deagle Sì, sì No, che mi ha preso? Che mi ha preso? Che mi ha preso il cosetto? Fucillo da caccia È lì Sì, sì Filippo, me l'hai rubato te Quale? Io c'ho la deagle Caccia, ho detto caro mio C'ho la deagle e le tue pepistole Che è che c'ha il fucile da caccia? Bombe Mia Io non c'avevo niente Porta di quella palestra Vai Bombe Raga, la chest qua sopra è mia Prendete la di Quella è la No Io sono norma Raga, ragazzi A me non mi importa se gioco Raga, a me non mi importa se gioco Con voi No, perché non basta essere un live lo stesso Sì, sì Raga, c'è solo sonarbetto Che si credeva Eh, di Szeus C'è, io l'ho dato un colpo da K L'ho ucciso Vabbè, ma considera Quindi ci stanno considera che io l'avevo l'avevo preso in volo con la deagle allora vieni qua non glielo dico pascia non si dice no a me potete dare un'arma perché io non ho niente capriela anch'io si ho messo male c'ho 100 di vita ma c'ho 30 di vita c'ho 100 di shit ma c'ho raga andiamo a lotto in magazzino andiamo a fare un po' di devasto ma mi metteci la in caccia oh mona non d'è che io c'ho un'anzina che porta strafortuna vero no no è mio lo so c'è c'è e l'avevo trovato io ho fatto 111 raga c'è gente in magazzini venite era lì e non era in una foto al centro eh no c'era però una al centro era mia non era al centro si è vero c'è gente in magazzini raga e che ci posso fa il caccia che ci fa al massimo no scop io ce l'ho già raga dove stanno no dico la gente ho trovato il caccia anche io siamo fratelli caccia blu che la sfortuna raga raga andiamo a cercare un po' di gente questo geyser va c'è gente a sponde stanno buildando se partì se partì che devo fare io devo grattare tutta la partita venite 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 andiamole a pushar raga sì perché domani forse viene fili fili ma domani ci sei a giocare un po' con me no mi dai le pende con me eh oh gabriele c'ho 30 di vita oh gabriele allora che domani ah scusa caprile allora che domani se non c'è scuola noi non ci abbiamo conti noi sì ce l'abbiamo noi ce l'hanno dato sì però noi non ce l'abbiamo noi ce l'abbiamo solo da leggere con la cosa se domani se domani non c'è scuola magari ci puoi anche a noi ce l'hanno dati oggi eh andateli a pushar che ti devo dire ti vedo buonasera ma ho preso col barrettozzo ecco c'avete degli scildini dammeli dammeli bro madonna ma non ci posso credere dove stanno gli scildini qualcun'ora mi devi dare qualcosa oh e ho capito voi l'abbia scaldio facciamo sfida dai aiuto 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 a che è che sta venendo no ci credo mi è arrivato un altro mi è arrivato un altro team da davanti no ragazzo è arrivato un altro team c'è mi è arrivato un altro team da davanti come fa mamma mi fa dare sta te raga io vado lo seconda al bagno c'è raga c'è si si raga facciamo così ora facciamo 5 minuti di pipì 2 minuti di pipì e poi facciamo le ultime due partite ok perché la live durano ora ok 2 minuti di pipì e eccomi ragazzi 2 minuti durano la live più forte ho fatto ho fatto i miei bisogni eh questa zona è vero donna quanto vita c'ha oh mettete pronto chi è 2 2 di vita non ci credo raga 2 di vita raga ma quando finisce la live chi è che siete là eccomi raga no si quando ce ne va ma se me ne vado ma se me ne vado perché eh ma se dopo la live non me ne vado ciao ma Gabri ma che livello c'hai del livello stile eh 23 poi non lo so eh 24 io so livello 51 è impossibile ma chi ha scioppato eh no Filippo guarda c'è livello 51 eh Filippo vuoi che ti manda la foto vuoi che ti manda la foto ma l'hai scioppato il pass no ho fatto le missioni tanto sono facilissime è impossibile no sono facilissime non avresti abbastanza missioni per finire il pass sì ma le missioni escono ogni le missioni escono ogni giorno ma che ogni settimana ma te hai fatto le missioni settimanali dove andiamo qua 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 dove andiamo parco picco basta andiamo a picco raga sì dopo questa partita siamo fanati si raga non andiamo a pusha tutta la gente in 30 secondi no e raga alla fine è meglio pusha perchè poi riprendete vita eh quanta gente c'è eh ma eh ma qui a tutti ci sono tantissimi no non sai di niente eh se no non ce l'hai non pushi eh se non ce l'avete non pushate spero se ce l'avete però che non ce l'hai ma quella è mia scusa tieni tetto ha dato una ah di più poi ci ha visto un team cappa viola fili grande ho trovato anche la mappa anche la mappa fili la mappa c'è la mappa si c'è la mappa si fili c'è la mappa fili mettiti all'arte raga poi ci sarà una dottima poi no quella mia l'ultima o due no fili aspetta ah eh vabbè gabrie eh la fili fili bella o l'hai devastato eh lo so però mi hanno ucciso eh vabbè gabrie no vai vai io l'ho detto pure che non ci arrivavo vabbè raga se non sta fermi nella live abbandona la partita ne fa un'altra eh vabbè ho capito allora quando ti guardo a te abbandono se per non sta fermo nella live eh ma lo vinco comunque anche se se è un lobby vieni no si no non lo vinci si 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 no fili non lo vinci si no fili no fili lo dicono tutti fili lo dicono tutti ti puoi anche ti puoi anche ti puoi anche se non lo prendi sotto eh vabbè non c'è una cosa da vicino attacca io la clinger no no non sprecai colpi attacca io la clinger ah bravo piccone oh Saba Saba io ti ho detto grande ritardo perché c'ho la live che è ritardo la live ma che c'è ma 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 dove sei sei morto o sei vivo ma 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 non gioca mona no Saba Saba io devo abbandonare devo fare l'ultima partita siamo a 53 no e no e va bene chi se nel fili il tuo si fili si 53 no e fili vieni chissene bello si vabbè ho capito allora non ti fa cocchie oh ecco bello bello non è morto mi ha capito perché che dico appiccicali e cerca cerca aspetta no lancia le klinger per impaurirlo lancia le tante o alte lancia le alte si si come minimo mori ora eccolo qui dentro eh uccidilo no è sopra ma dove è andata allora raga c'è un errore raga non so che sta succedendo oh eccomi eccoci venite dalla lobby di Moreshift perché vili ah vili ora ti sentiamo no no si si è finita no io la vedo a me a me mi si è spento il coso della live non me la favo più vedere e se è ancora nonda e se è nonda si è vero guarda allora facciamo la partita potete fare creative perché poi mi voglio neanche io eh no no la creative no ultima partita della live ah no ultima partita della live che ho messo creative ah ok 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 no no squadra raga raga fate l'ultima partita raga fate l'ultima partita poi saluto e giochiamo noi in creative ma se io non me ne vado scusate raga ci fa ancora no raga no non vado al posto di capri finisco sta partita e devo andare a mani ah ok allora dopo si noi si si facciamo squadre ora si ma io con boccia beh beh il film è due da me io due non ci stiamo dicendo si io posso stare con qualcuno devi sta con me Gabriella è vero c'è oh è vita sto sempre con il mio cugino ah si siamo così si siamo così ma dai toscia infatti ecco perché la mamma di felice è così giovane ma è molto giovane il più giovane della mamma ma non ci ti spacco la faccia allora io domani non ci so a scuola ma no ha detto una cosa bella ha detto una cosa positiva no oh ma no dobbiamo pregare che domani non ci sia a scuola ma lo sai che di sicuro non c'è domani eh ma le mestre dicono che c'è palmetto raga no raga andiamo in un posto scalini scalini in fondo scalini in fondo si ok no no scalini in fondo si scalini in fondo ma finisco questa partita vabbè andiamo a palmetto allora dividiamoci andiamo a palmetto prego di siaco raga oh fili tutte le live che fai ci posso essere io si segnalalo che ti devo dire ciao raga ciao mona mona va via ciao mona il foccio vabbè noi siamo in quattro oh io prendo quella casa bianca tutta mia si gabriele io ho il motel oh scusate io prima non avevo lutto io no questa casa è mia gabriele io vado sempre qua dite a gabriele al motel questa casa è mia dove so io ora è mio il motel no è gabriele dite io dite io che è mio ah dite io senti gabriele con la voce tremenda seba guarda tutto questo è tuo no non ci voglio andare non mi piace no non fa lo stesso perché deve interessare a me no a te no l'ho detto che c'era qui bello 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 certo che mi scudendo io ho il pompa nuova viola ho trovato la pappa ma comunque chi era lì facile trovarla e anche io no penso a stepni ci ha dedicato un video per cercarla si e non la trovava quasi mai è tutta mia la mappa e allora ti cerca il tesoro tutto solo che se magari ti vengono da dietro mori cioè io ci vado a cercamelo tutto solo ma perché almeno io mi so difende vero saba poi vengono quelli che dicono se ruzzoli di quello si sa difende no è sul serio mi so di se volete venire con me venite no vogliamo venire perché dobbiamo andare anche in safe eh lo so filippo iager la 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 che senza filippo iager ma come si fa è da l'altra parte della mappa ve lo dico bello ma ci da solo vai cammina diteli se non ci va se non ci va non vai in safe se non ci vai non vai in safe ma tanto ci vai io prendo la frattura tanto ce ne so un botto aspetta ma ce ne so quattro raga si ma a te se ne vai da su non fa come si ah no è vero perché poi io trovo gente e dico e dove dite ma arrivo con voi e poi muori e scleriamo troppo perché vi ricordo questa partita la dobbiamo fa con calma venite aspetta lutto st'ultima scesa che nessuno ha lottato no dica a gabriele devi ricercare la mappa se no non può andare in safe è vero gabrie devi andare a prendere la mappa se no non può andare in safe non ci vado perché è dall'altra parte oh filippo vai usatela usatela fermo gabrie usatela no a sprofondo no a sprofondo no a sprofondo no a sprofondo ma proprio che profumino di panzetta chi è che non ci arriva no ci arriva mi dispiace ci arriva ci arriva si poi ci arriva il di brutto c'è gente c'è gente c'è gente che è una cosa blu è mia ragazzi siamo al 24 no ma va il culo no perché non ha lasciato la mappa infatti dove l'ha vista sta gente che ne so credo al mio cugino ah la sento sento degli spari ah spari allora ne che vabbè non posso dirlo che profumino di panzetta eh anch'io lo so quel caccio è mio stai giusto calmo l'ha detto prima io qualcuno mi può dare un po' di colpi di pompa ma dai chi l'ha preso il caccia poscia dai mami mami aslo ah mami aslo mami lallo mami la 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 lallo e l'ho trovata lì l'ultima liberante l'ultima ma che stai dicendo ma io ti sparo tutto tutto sì sul serio qualcuno mi può dare un caccia eccoli arrivo raga ecca Gabriele sta venendo sabba resisti costruisce l'impazzato ma lo uccide ma lo uccide ma lo uccide ma lo sai perché Gabriele non si era tolto ma l'hai ucciso almeno ma certo io no ma poi non è andato a terra perché non mi dà caccia a me mi piace e basta con sto caccia Gabriele a me mi piace qualcuno sabba un po' da un po' di colpire il pompa dobbiamo andare dobbiamo andare andiamo ma ci dobbiamo fare 300 e passa metri no raga raga questo se vuoi ti posso Gabriele non urlare te urli oh raga da me c'è una cosa dai felice siamo venti sono un cifre poscia vieni da me io ti posso dare 100 di scildo eccomi tieni e tieni ma Bambi Ronaldo è fortunato qualcuno mi può dare il ca uno mi può dare basta Gabriele e poi poscia qua ci sono delle bande bande mi servono no di poscia e anche io aspetta ce le dividiamo io raga piglio il geyser e poi sei ve lo dico aspetta pigliamo il geyser e poi andiamo eh si no è vero però fu anche forte si ma noi tre noi tre io te e con l'altro si va ma hai fatto una missione intera grazie eh la la revolver col mirino bellissima leggendaria poi boh a qualcuno ragazzi siamo in 19 ma allora a cappa leggendaria dammela a me no dai Gabriele io non la so usare la cappa scusami no ma niente dai Gabriele no si dà la fili aspetta dammela buttala scaracca no è mio allora butta la cappa leggendari buttala vai cammina anche se sono a Prada con lo scar prenditi lo scar no no lui non è buono sono Prada scusa eh no Prada ragazzi ho armamentario due leggendari e due viola io ho viola e blu e anche lancia granate ragazzi se vedete qualcuno ditemelo lancia granate io no io no sto già messo bene io che hai visto niente niente io no io non so bravo col lancio eh Gabriele se ne è fregato col tuo compa tieni le pende ci so due ma mi aso ci so due pende eh infatti io ce ne ho 21 di colpi di pompa eh io 13 venite raga siamo in 13 eh bene bene raga very very good so qua very very good raga andiamo in safe questa me la voglio giocare safe zone ok 12 ragazzi facciamo l'ultimo team non siamo in 12 eh ma uno l'ha ucciso 11 oddio siamo in 8 anche pochi anche pochi perché ora in 10 lo sai perché uno è morto da 6 è stato atterrato se togli noi 4 siamo in 7 è vero no siamo in 11 si ma ora ma una era 10 raga 10 meno 4 6 9 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 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 15 14 15 15 16 15 16 15 16 16 18 18 17 19 19 19 19 20 20 Sto affaita Sì lo so Mamma siamo No Maledizione Vabbè raga la live Finisce qua Ciao raga Lo so Ciao